Rieccoci con un nuovo video. Come vedete abbiamo due mazzi, quindi i tarocchi delle favole oscure e i pagantarot. Di conseguenza andremo a fare, appunto, come ho fatto nel video precedente, due stese con i mazzi dei 78 arcani maggiori e minori e quindi due varianti. Quindi nella prima variante ci occuperemo di come il vostro lui segreto, tra virgolette, vive il rapporto con la compagna ufficiale, che può essere moglie, fidanzata, convivente. Comunque la compagna ufficiale, nella seconda stesa e quindi con il secondo mazzo di arcani, cercheremo di capire invece come lui si comporta, come agirà, ovviamente, anche in futuro, nei vostri confronti. Quindi i pro e i contro che quest'uomo vede nel rapporto con la compagna ufficiale e nel rapporto con voi. E infine una posizione molto importante che riguarda, appunto, il consiglio degli arcani, per cercare, in qualche modo, di superare tutti quelli che possono essere degli ostacoli. In questo video utilizzerò dunque il metodo della croce semplice. Voi sapete che ci sono diverse tipologie di stesa per quanto riguarda la croce semplice. Generalmente i più famosi sono il metodo temporale, che è quello che io utilizzo per la maggiore, con gli oracoli, con lo scrigno degli oracoli in particolare. E il metodo invece più classico, che è quello che andremo ad utilizzare quest'oggi, ovviamente sempre a cinque carte. Quindi, prima variante, come lui agirà, come agisce, quello che pensa, quello che prova, i pro e i contro del rapporto con la compagna ufficiale. Seconda variante, stessa, medesima situazione, ovviamente, però come lui si comporta, si comporterà, quello che pensa, prova, desidera, vuole, i pro e i contro del rapporto con voi. Quindi, iniziamo dalla prima variante, quindi il rapporto con la compagna ufficiale. Allora, aspettate che allontano un attimo questo mazzo, per poterci stare, ovviamente, perché lo spazio è quello che è. Allora, iniziamo a mescolare questi arcani, meravigliosi. Io amo molto questo mazzo dei tarocchi delle favole oscure, ovviamente esattamente come i pagantarot, ha un taglio prettamente femminile, anche perché, appunto, dobbiamo indagare del rapporto che lui, ovviamente, ha con la compagna ufficiale in questa, appunto, prima stesa, e successivamente il rapporto che lui ha con voi. Allora, aspettate che mi piace, Allora, perfetto, vediamo un po'. Allora, mettiamo qui anche quest'altro mazzo e vediamo di inquadrare bene la stesa. Allora, iniziamo dalla prima posizione, quindi i pro che questa persona vede nel rapporto con la compagna ufficiale. La regina di spade, mamma che gendarme questa donna. Allora, ragazze mie, la regina di spade ci parla ovviamente di una donna che ha molto potere in questo rapporto. In questo momento addirittura mi viene come prima carta, voi sapete che la prima carta di qualsiasi stesa, possa essere 5 carte, 8 carte, 10 carte, 13 carte, è fondamentale perché in realtà ha un'influenza ovviamente basilare su tutto il resto della stesa. Io dico sempre come il soggetto di una frase. Ci spiega poi ovviamente anche tutto il resto della stesa e a sua volta ne è spiegata. Allora, questa donna ovviamente mi viene in posizione di ostilità perché mi viene proprio come regina di spade. La regina di spade e la regina di denari rappresentano proprio l'altra donna, mentre la regina di coppe e la regina di bastoni la consultante. Ecco, in questo caso questa è una donna che potrebbe aver scoperto, parliamo di spade, quindi una donna che tende a controllare tantissimo, potrebbe aver scoperto di voi e quindi in questo periodo in particolare, perché questa è la posizione del presente, ovviamente questa persona potrebbe avere in qualche modo capito, anche solo captato, la vostra presenza, la possibilità che il compagno possa avere qualcun'altra nel cuore, nei pensieri. Questa è una donna molto furba, è una donna molto attenta ed è una donna molto abile nel gestire le comunicazioni, parliamo appunto del mentale. Quindi è una donna che sa come controllarlo, ma nello stesso tempo a volte anche elusingarlo, perché di fatti mi viene nella posizione dei pro della situazione, cioè cosa lui vede di positivo nel rapporto con questa donna. Ecco, lui vede di positivo nel rapporto con questa donna proprio questo atteggiamento di lei. Quindi da una parte lo può spaventare, perché comunque una donna, vi ripeto, che lo controlla particolarmente, ma dall'altra evidentemente questo atteggiamento ipervigile di questa donna, da una parte comunque può lusingarlo, cioè lo fa sentire protetto, ricoperto di attenzioni. La regina di spada è una donna molto forte, è una donna capace, è una donna che in qualche modo sa prendersi cura della sua famiglia, anche se però è di spade, quindi non è una regina per esempio di denari, che è una donna più calda, è una donna più generosa. La regina di spada è una donna che ha un cuore ghiacciato, quindi non dimostra amore e probabilmente in qualche modo neanche li pretende. lei esige solo ed esclusivamente rigore, quindi anche se questa donna lo controlla, a lei interessa solo che lui non la tradisca con un'altra donna e che quindi non la lasci, ma sinceramente alla regina di spade che lui possa amarla o meno, desiderarla o meno, a lei non importa e questo a lui piace, perché lui si sente comunque libero di poter poi gestire la sua vita con un'altra persona, quindi mantenendo il classico piede in due scarpe. Cioè questa è una donna molto chiara, all'atteggiamento assolutamente dal mio punto di vista non condivisibile, perché obiettivamente a lei di essere amata, desiderata, ricambiata nei sentimenti, a lei non importa, a lei importa solo ed esclusivamente che lui le stia al fianco. Tra l'altro è una regina di spade, vi ripeto, è una donna molto fredda, è una donna algida, è una donna che mostra poco, un desiderio anche fisico nei confronti di lui e ragazzi sinceramente si concede anche molto poco a lui, quindi non ci sono particolari momenti di tenerezza o apporti appunto fisici tra queste due persone, assolutamente no, perché può rappresentare anche una donna che ha problemi di frigidità, quindi obiettivamente in questo caso abbiamo effettivamente una donna, vi ripeto, distaccata da quelli che sono i piaceri della vita, i piaceri del corpo, l'affettività, i sentimenti, l'amore, l'emozione. È una donna cui non importa tutto questo, a lei importa solo che si seguano tradizioni e oneri, quindi i doveri sono di rimanere a suo fianco, portare avanti il loro rapporto, eventualmente il loro matrimonio e prendersi cura e eventualmente nel caso ce li abbiano dei loro figli. È una donna molto metodica, vi ripeto appunto è un gendarme, è una donna che ha delle regole e dà delle regole e questo vi ripeto permette a lui, in maniera però totalmente malsana, di permanere con un piede in due scarpe. Quello che lei non gli dà, lui lo va a cercare da un'altra parte, quindi ovviamente da voi, ma perché a lei basta ovviamente che lui non prenda mai una decisione e a lui purtroppo ragazze sta bene così, perché vi ripeto comunque lo fa sentire al sicuro. In realtà in questo caso la regina di spade rappresenta più una madre, qualcuno che si prenda cura di lui piuttosto che una compagna, una donna, un amante. È più vi ripeto una madre che in qualche modo lo gestisce. Allora vediamo i contro della situazione invece, cos'è che obiettivamente non va invece tra queste due persone, quali sono i punti deboli del loro rapporto, le questioni che obiettivamente a lui non vanno giù. Vediamo un po'. Il quattro di coppe, certo. Allora, vedete questa ragazza che appunto è sdraiata, in maniera piuttosto annoiata, per quanto riguarda proprio queste coppe che dovrebbero essere piene, ricolme di liquido, quindi di sentimento, di amore e di passione, in realtà sono completamente vuote o comunque lei se ne disinteressa totalmente. Ecco, quest'uomo ovviamente pensa di portare avanti il suo rapporto tranquillamente con questa regina di spade che ha, vi ripeto, questo atteggiamento, questo temperamento assolutamente dal mio punto di vista non condivisibile. Lui pensa di poter andare avanti tranquillamente con lei, comunque sentendosi al sicuro con una sorta di grande chioccia, con una madre. In realtà, ecco cosa non va, quattro di coppe, la noia. Non c'è amore, non c'è passione, non c'è più sentimento. Tra queste due persone non c'è niente. Da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista fisico, non c'è più attrazione, non c'è più una progettualità comune. Il quattro di coppe proviene direttamente dal tre di coppe, che rappresenta l'evoluzione. Il quattro di coppe rappresenta dunque rispetto al tre il blocco di ogni evoluzione, per arrivare ad una staticità, ad una fissità ridondante. Tra di loro c'è, vi ripeto, noia, abbattimento, incapacità di progettare, di vedere oltre. Queste due persone non parlano più di futuro, non vedono più un futuro insieme, arrancano in maniera faticosa, legnosa, portando avanti un qualcosa che non esiste più. Questo è un rapporto totalmente paradossale. Quindi potete stare assolutamente tranquille nel caso in cui chiaramente il vostro dubbio sia questo, cioè tra di loro c'è passione, c'è desiderio, no. Tra di loro c'è amore, no. Il quattro di coppe non parla però neanche di sentimento, ma è ovvio perché tradendola con voi mi sembra ovvio, non le porta a rispetto. Ma perché lui sinceramente non ritiene di doverle portare a rispetto, anche perché lei non pretende questo. Lei vuole solo ed esclusivamente che il loro rapporto proceda lungo questi binari. Però ragazzi, la sorpresa è che è un binario morto. Queste due persone non hanno nessun viaggio da compiere assieme. È un binario morto, è una stazione abbandonata ormai. Devono semplicemente rendersene conto, evidentemente. A questo punto io mi auguro nelle carte del futuro che ci sia comunque un minimo di consapevolezza, però ragazzi, perché obiettivamente tra la regina di spade e il quattro di coppe, in accezione oltretutto negativa, che già in accezione positiva comunque non è proprio una carta meravigliosa. L'accezione negativa rappresenta obiettivamente proprio un deragliare lungo effettivamente una sorta di dorsale che porta chiaramente poi al al disfacimento di questo rapporto. Quindi in qualche modo è chiaro che queste due persone devono parlarsi, dovrebbero dirselo, ma soprattutto prima di arrivare a questo dovrebbero rifletterci su. Perché non mi sembrano persone particolarmente mature, né lei che ha messo in piedi questa sorta di rapporto così ambiguo, ma nemmeno lui che la accetta. Perché vi ripeto, in questo caso non è un rapporto sano, è un rapporto fortemente malsano. Cioè due persone che accettano di stare insieme per salvare in qualche modo la facciata, per salvare questa sorta di rapporto, magari anche da un punto di vista economico-finanziario, anche se però fino ad ora non mi sono venute carte di denari, però obiettivamente sono due persone che non si amano, non si desiderano più e non vedono più un futuro insieme. Direi che obiettivamente queste due persone non hanno più nulla da darsi né da dirsi, quindi dovrebbero obiettivamente cercare di agire se fosse possibile in maniera un po' più matura. Cerchiamo di capire in questa posizione che cosa accadrà tra di loro, quindi il futuro tra di loro, a prescindere da qualsiasi vostra reazione o comunque da qualsiasi vostro comportamento in merito alla faccenda. Quindi diciamo che rappresenta un po' la carta del giudice, cioè tutti quei fatti inaspettati che possono accadere nell'ambito del loro rapporto. Allora in questo caso abbiamo il fante di bastoni. Allora nel caso in cui queste due persone abbiano un figlio, il collante al loro rapporto è e rimarrà ovviamente anche nel prossimo futuro questo figlio, figlio o figlia, perché comunque per quanto riguarda diciamo la carta del fante non ci sono delle vere e proprie connotazioni di genere. Quindi questo figlia o figlio è obiettivamente il collante della loro storia e continuerà ovviamente ad esserlo. Nel caso in cui loro abbiano più figli ovviamente parliamo di un fante, quindi quello che maggiormente risente dell'attenzione di entrambi è il figlio più piccolo e che quindi in qualche modo costringe tra virgolette questa coppia per durare in questa sorta di recita malsana da coppia del muino bianco. Quindi in questo caso, nel caso in cui abbiano i figli o dei figli o delle figlie, questa carta, quindi il fante di bastoni rappresenta proprio questo, ma potrebbe rappresentare nel caso in cui non abbiano dei figli una ottima notizia da un punto di vista professionale, parliamo di bastoni. Quindi nel caso in cui il vostro compagno abbia avuto dei problemi da un punto di vista professionale, quest'uomo riuscirà finalmente a trovare il lavoro giusto o per esempio ad avanzare nella propria carriera e questo sarà un grande motivo di soddisfacimento per entrambi. ovviamente la stessa cosa vale per lei, cioè è lei che potrebbe aver avuto problemi economico-finanziari legati per esempio alla mancanza di lavoro, ebbene lei potrebbe trovare lavoro o cambiare lavoro per in qualche modo andare a migliorare la loro situazione. Quindi questo fante di bastoni rappresenta a breve nella loro vita e nel loro rapporto una buona notizia, però vi ripeto, non parliamo di coppe, quindi qui di nuovo non ci sono sentimenti, non c'è un riannodare il loro rapporto, abbiamo comunque delle ottime notizie da un punto di vista professionale, cioè lui potrebbe trovare un nuovo lavoro magari più remunerativo, oppure lei potrebbe trovare un lavoro più remunerativo, che possa comunque in qualche modo rimpinguare le sostanze della famiglia, del nucleo familiare, oppure ragazzi potrebbe riguardare entrambi, entrambi e riescono finalmente a trovare il lavoro giusto. Nel caso in cui siano soci per esempio e la loro attività abbia in qualche modo in questo periodo risentito di alcune problematiche, ci saranno sicuramente delle notizie positive, quindi per esempio nuova clientela, comunque un'attività professionale che riprende. Chiaro ragazzi che parliamo di un fante, quindi non si sta parlando di due persone che diventeranno milionarie o comunque che in qualche modo riusciranno a creare la ditta per eccellenza che riesca in qualche modo a inserirsi all'interno del grande numero delle grandi multinazionali. Chiaro che questa è una società che partirà comunque con una certa lentezza. Vi ripeto parliamo di un fante, quindi ci saranno sicuramente dei passi avanti che però saranno piccoli passi avanti, quindi niente di particolarmente eclatante, però vi ripeto comunque sono notizie importanti che riusciranno in qualche modo a rallegrare anche solo per qualche momento questo rapporto. Vi ripeto qui non si sta parlando di un rapporto che in qualche modo riprenderà a fiorire, qui si sta parlando di un rapporto che ovviamente vedrà qualche piccolo momento di positività. Allora, a questo punto vediamo questa posizione che rappresenta la posizione del consiglio, cioè che cosa vi viene consigliato appunto dal destino. Allora, in questo caso abbiamo la carta del giudizio. Allora, metto qui così potete comunque vedere bene le prime quattro. Allora, la carta del giudizio rappresenta notizie, rappresenta un ritorno, rappresenta un invito, una chiamata, una telefonata che molto probabilmente quest'uomo breve vi farà, a cui voi ovviamente per il consiglio degli arcani dovreste rispondere per cercare di rendere più chiara la vostra posizione in questo rapporto. Che cosa intendo però? Non obbligando o cercando in tutti i modi di portare quest'uomo a scegliere, ma mostrando a quest'uomo che voi siete il giudizio, cioè che voi potreste essere un grande momento di rinnovo nella sua vita, potendo con voi avere anche amore e passione, ma che nel momento in cui lui deciderà o dovesse decidere comunque di perdurare in questo rapporto asfissiante con la compagna, voi potreste tranquillamente andare avanti per la vostra strada. Il vostro futuro, carta del giudizio, è una rinascita, quindi voi vi lascerete alle spalle tutto quello che è un passato doloroso, fatto di ostacoli, fatto di momenti di insoddisfazione, di stand by e quindi avete tutto il diritto, la necessità e il bisogno di andare avanti con le vostre gambe per ricominciare. Quindi dimostrate a questa persona sì, io ci sono, quindi posso essere quel grande cambiamento di cui tu hai bisogno, ma ricordati che io ho una mia vita e che sto andando avanti con le mie gambe e che andrò avanti con le mie gambe. Il giudizio è una carta molto severa perché ci parla di forza, di coraggio, di rigore, di discorsi fatti in maniera chiara, totalmente distanti dalla dipendenza per esempio rappresentata dal quindicesimo arcano del diavolo. Non mostrate a questa persona di dipendere dalle sue chiamate, dalle sue telefonate, dai suoi momenti di stop. Dimostrate a questa persona che voi state rinascendo a nuova vita, a prescindere dalla sua presenza o a prescindere da qualsiasi sua scelta. È chiaro che in questo caso quindi quello che vi viene consigliato è sicuramente di essere coraggiose, di essere forti, di procedere, vi ripeto, a passo spedito verso i vostri obiettivi che possono essere professionali, di studio, economico-finanziari e molto probabilmente anche sentimentali. Perché la carta del giudizio può rappresentare la chiusura di un rapporto del passato per aprirsi ad un nuovo rapporto, vi ripeto, in breve tempo. Quindi sicuramente potrebbe arrivare qualcuno di più importante nella vostra vita e voi potreste trovarvi a dover scegliere tra quest'uomo che fa parte comunque del vostro passato, ma che obiettivamente non mi sta dando nulla, e un'altra persona completamente nuova. Quindi in realtà il giudizio rappresenta un nuovo amore, un colpo di fulmine, una svolta decisiva che potrebbe esserci, vi ripeto, o nel rapporto con lui o in realtà un cambiamento in atteso di partner. Quindi un cambiamento in atteso per voi e ovviamente in questo caso vi viene consigliato di procedere verso il nuovo, di non targiversare, di agire rapidamente, perché comunque avverranno eventi, accadimenti inattesi molto rapidi, ma che sicuramente vi porteranno ad una grande trasformazione. Quindi o perché obiettivamente conoscerete una nuova persona, oppure perché comunque in qualche modo riuscirete con la vostra presenza a indurre quest'uomo se non altro a porsi di fronte ad un vivio. Ma quello che dovete far capire a questa persona è che voi avete la vostra vita, a prescindere da quelle che possano essere le sue scelte e il suo continuare imperterrito in questo rapporto. Vi ripeto, è una carta molto veloce, quindi in realtà dovreste aspettarvi dei cambiamenti importanti o comunque una chiamata, una telefonata con dichiarazioni importanti entro massimo un tre settimane. Quindi è una carta veramente molto molto veloce. Chiaramente queste dichiarazioni, in questa comunicazione così importante tra voi e quest'uomo dovrete, vi ripeto, cercare di mostrare saggezza, maturità, ponderazione. Ma vi ripeto, per far capire che voi non state lì ad aspettare questa persona, che voi avete la vostra vita, che voi avete una vita da rinnovare. Carta del giudizio ci parla proprio di una rinascita, di un cambiare pelle. Dimostrate a questa persona che voi sapete andare avanti con le vostre gambe e che lui probabilmente perdendo voi perderebbe veramente l'unica occasione che potrebbe avere di rinnovare il suo cuore, la sua anima e anche i propri bisogni fisici. Vediamo a questo punto l'ultimo arcano che rappresenta appunto il futuro, quindi la sentenza definitiva tra quest'uomo e questa donna. Quindi come procederà il rapporto tra lui e la sua compagna ufficiale. Vi ripeto che può essere moglie, finanzata, piuttosto che comunque convivente. Vediamo un po'. Qui abbiamo il re di coppe. Allora, quest'uomo sicuramente non avrà più timore dei propri sentimenti. La caratteristica principale del re di coppe è che quest'uomo finalmente entrerà in contatto diretto con quelli che sono i suoi sentimenti e quindi in breve tempo, perché tra l'altro vi ripeto i re rappresentano comunque delle azioni veloci e concrete, questa persona andrà ad agire. Comunque porterà notizie, perché i re rappresentano delle prese di posizione, delle notizie importanti, solenni, che cosa vi dicevo appunto con la carta del giudizio. È una persona che si mostrerà comunque decisa, una persona che si mostrerà assolutamente fedele per quanto riguarda i suoi sentimenti. Abbiamo detto che con lei lui non prova sentimenti, c'è un quattro di coppe in accezione negativa. Di conseguenza questi sentimenti, a seguito soprattutto di questa carta del giudizio, lui dimostrerà in maniera molto importante a voi, nei vostri confronti, quindi in qualche modo con l'altra e nei confronti dell'altra donna. Ma la caratteristica del re di coppe in questo caso è proprio dell'essere un uomo comunque molto sicuro di sé, che non ha paura dei propri sentimenti, che agirà in maniera matura, saggia e realizzata, che non agirà sulla scorta di un impulso per esempio fisico, ma dare di coppe. Quindi cercherà in tutti i modi di non esasperare alcune situazioni, per non arrivare per esempio a dei litigi molto forti con la compagna ufficiale, ma riuscirà comunque ad iniziare quel percorso di presa di coscienza e di consapevolezza dei propri sentimenti. Quindi sicuramente, vi ripeto, è una persona che non accenderà litigi con lei, perché il re di coppe non ama i litigi, anzi ama la pace. Cercherà in qualche modo di portare avanti i propri progetti d'amore, perché quest'uomo vuole cambiare qualcosa della sua vita, ve lo dicevo con la carta del giudizio, e vuole cambiare qualcosa in quale ambito? Parliamo di coppe, quindi nei suoi sentimenti. Quindi questa persona vorrà dar vita a qualcosa di importante per quanto riguarda l'amore, che ovviamente con lei non prova più, ma che ovviamente includerà un'altra persona, che siete appunto voi. Quindi, però vi ripeto, agirà con giustizia, con onestà, con lealtà, quindi potrebbe anche parlare a lei, nel caso in cui lei non abbia ancora scoperto nulla di voi, potrebbe parlare a lei del rapporto che ha con voi. Perché di fatto il re di coppe ci parla di onestà, maschere che in qualche modo cadono. Agirà con giustizia e soprattutto è un re di coppe, agirà cercando di non far soffrire nessuno. Lui non vuole che questa donna soffra e non la farà soffrire, qualsiasi possa essere la sua decisione. In particolar modo ha un forte senso di responsabilità, re di coppe. Quindi è una persona anche molto altruista e generosa, in particolar modo nel caso in cui sia padre. Quindi ovviamente terrà particolarmente al suo ruolo di papa e non andrà certamente a creare dissidi con questa donna, poiché sa che in qualche modo potrebbero risentirne anche i suoi stessi figli. Quindi vi ripeto, attenzione, come vi è stato appunto consigliato dagli arcani, alle prossime comunicazioni che vi arriveranno a breve da parte di quest'uomo, perché ovviamente avranno un taglio molto diverso rispetto a quello che lui in qualche modo vi ha manifestato, poiché vi parlerà molto probabilmente di quella che è la sua situazione familiare, ed è il fatto che vuole agire in maniera completamente diversa, cercando di dare una svolta importante alla sua vita da un punto di vista sentimentale. Ma vi ripeto, non è una persona che creerà disagio, disturbi, litigi, assolutamente no, non vuole che nessuno soffra, non vuole che qualcuno possa soffrire, assolutamente no, né voi e né tantomeno la compagna ufficiale, né tantomeno i propri figli. Quindi il re di Coppe rappresenta un movimento, un movimento in avanti della situazione, nel senso quindi di un'espansione, un'espansione che porterà però, vi ripeto, ad una presa di posizione, perché il re comanda, il re decide, impartisce ordini, ma lo fa in maniera e lo farà in maniera confortante, quindi senza creare problemi, sofferenza o litigi, ma cercando in qualche modo di realizzare quelli che sono i suoi reali sentimenti. Quindi in qualche modo agirà anche in maniera molto protettiva, come è tipico del re di Coppe, nei confronti sia del rapporto con la compagna ufficiale, ma anche nei confronti del vostro rapporto. Ma perché una persona che non avrà più paura di confrontarsi, finalmente, con ciò che prova, con i suoi sentimenti? Quindi mostrerà anche una certa, vi ripeto, stabilità, saggezza, quella maturità di cui appunto avevo parlato all'inizio e che obiettivamente sembrava assolutamente mancargli. D'accordo? Bene, quindi direi che questa stesa è stata piuttosto chiara, che finalmente avrete appunto un'evoluzione della situazione che porterà ovviamente quest'uomo finalmente a scegliere per i suoi sentimenti o comunque a prendere coscienza di ciò che prova per cercare di portare avanti appunto una nuova situazione, in particolar modo appunto con voi ovviamente. Quindi ricordatevi di prestare, come vi ho detto poco fa, molta attenzione ai prossimi incontri e alle prossime telefonate, ai prossimi messaggi, perché saranno molto importanti da parte di quest'uomo. Vi faranno capire meglio con una sorta di quadro importante, un quadro generale, un po' della sua situazione, sia con la compagna ufficiale, ma ovviamente anche nei vostri riguardi. D'accordo? Perfetto, allora, mettiamo via questo mazzo e prendiamo invece il mazzo dei Pagan Tarot, quindi iniziamo appunto con la seconda variante, perciò tutto ciò che è ovviamente inerente in particolar modo al rapporto fra di voi, cioè fra voi e quest'uomo che può essere appunto sposato, fidanzato, convivente, quest'uomo comunque impegnato con il quale ovviamente avete un rapporto ovviamente segreto. Quindi cerchiamo un po' di capire il pro e il contro del rapporto tra voi e quest'uomo, il consiglio degli arcani e cerchiamo anche di capire le due carte in riferimento al futuro tra voi e questa persona, la carta giudice e la carta sentenza della croce semplice, questo metodo classico che va ovviamente ad analizzare maggiormente la situazione del presente e ovviamente del futuro, per cercare di avere, vi ripeto, un quadro il più possibile chiaro soprattutto sul presente. Poi ovviamente in caso in cui voi vogliate anche capire, conoscere qualcosa in più del rapporto con la compagna, potete ovviamente, la compagna ufficiale, potete ovviamente guardare anche la prima variante. Allora... Perfetto, allora io il mazzo lo sposto un attimo di qua perché se no non ci stiamo in modo da farvi vedere bene ovviamente tutte le carte. Allora in questa posizione abbiamo appunto la posizione dei pro della situazione, i contro, le due carte del futuro ed infine appunto il consiglio che è una carta a mio avviso sempre fondamentale. Allora, vediamo i pro del rapporto tra voi e questa persona. Che cosa vede di bello nel rapporto con voi questa persona? Allora, qui abbiamo il nove di coppe. Nove di coppe, anche se avete visto la carta girata, voi sapete che io le utilizzo comunque tutte al diritto, evidentemente perché ha girato il mazzo, ma sapete che comunque gli arcani a mio avviso si leggono tranquillamente anche appunto al diritto, anche perché hanno comunque, a seconda della posizione che hanno appunto nelle varie estese, il loro significato positivo o negativo, quindi si estrapola comunque dalla lettura. Quindi a mio avviso è abbastanza inutile leggere le carte al contrario. In particolar modo in tarologia è fondamentale appunto leggere le carte unicamente al diritto, proprio perché vi ripeto i significati comunque in negativo si possono estrapolare tranquillamente dalla stesa e dalle varie posizioni nella stesa. Quindi qui abbiamo i pro e infatti qui poi avremo i contro. Allora, vediamo un po', quindi qui abbiamo la carta del nove di coppe. Allora, questa persona vi vede come questa signorina, guardate quanto è bella questa ragazza, così sensuale, così giovane. È una donna che ovviamente non ha bisogno degli altri. La carta dei nove, nove di coppe, così come nove di denaro in particolare, nove di bastoni, anche il nove di spade, ci parla di una persona che comunque riesce a stare tranquillamente bene camminando appunto sulle proprie gambe. Questa è una cosa che a lui piace particolarmente di voi. Questo è un uomo che vi vede una donna molto bella, vi vede una donna molto corteggiata, il nove di coppe, ci parla, vedete, di una donna che può scegliere, è in un negozio, guardate, e quindi può scegliere tra più prodotti a sua disposizione. Quindi è chiaro che in questo caso lui sa di essere comunque uno dei possibili pretendenti. Vi vede appunto una donna indipendente, una donna autonoma, una donna intelligente, una donna emotiva, una donna sentimentale, parliamo appunto di coppe. Ma qual è la caratteristica principale del nove di coppe? L'abbondanza in cosa? Nei sentimenti. Quest'uomo è preso di voi, quest'uomo è innamorato, prova un sentimento pulito, serio ed importante per voi. Il nove di coppe ci parla di un uomo che è sentimentalmente molto legato alla consultante. Quindi ci parla di un uomo che comunque vi vede come la sua donna ideale. Parliamo di un nove, una carta di grado nove, quindi una donna che può renderlo felice al punto da rappresentare per lui un momento di lustro nella sua stessa vita. Cioè quest'uomo sarebbe orgoglioso nel mostrarvi agli altri perché vi vede unica, vi vede come appunto l'abbondanza, come tutto ciò che di bello e di buono può avere un uomo al suo fianco. Ha un'immagine molto particolare di voi, di donna vincente, di donna di successo. Quest'uomo prova un vero sentimento per voi, quindi è una persona molto innamorata. Nella variante precedente abbiamo immediatamente notato una caratteristica principale, non prova sentimenti per la compagna ufficiale, ecco per chi li prova. Lei mi veniva come regina di spade, una donna fredda, anche poco attraente. Qui abbiamo invece una donna molto forte comunque, ma comunque una donna calda, una donna caliente, una donna in grado di far provare molte emozioni ad un uomo, anche da un punto di vista fisico. Quindi in realtà vi vede come quella donna che può fargli in qualche modo prendere una decisione, perché il nove di coppe vedete ci parla comunque di scelte. Quest'uomo sa che voi potreste essere in grado di allontanarlo dalla compagna ufficiale, che voi potreste essere l'ago della bilancia che potrebbe tranquillamente diciamo far pendere verso di voi, per il vostro rapporto piuttosto che per il rapporto con la compagna ufficiale. Quest'uomo sa che siete la donna giusta, che può rappresentare la chiusura di un ciclo, la carta successiva nove di coppe è il dieci di coppe, quindi la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo con un'altra donna. Quindi iniziare ex novo, un nuovo rapporto. il contro della situazione, cioè che cosa invece lo impenserisce del rapporto con voi. E qui abbiamo il re di pentacoli. Allora, nel caso in cui voi abbiate un compagno, quindi anche voi siate comunque impegnate, è il vostro compagno, è il suo rivale, il re di pentacoli. Quindi un altro uomo che comunque vi sta al fianco, potrebbe non essere un vostro compagno ufficiale, ma ovviamente lui sa che voi siete un uomo di coppe, quindi una donna molto ammirata. Di conseguenza pensa che voi potreste avere sicuramente qualcun altro. Quindi potrebbe temere la figura di un nemico, di un rivale. Oppure potrebbe temere anche qualche parente, un padre, nel caso in cui voi siete piuttosto giovani, un fratello o un amico, parliamo di pentacoli. Comunque una figura maschile che in qualche modo potrebbe interferire nel vostro rapporto creando scompiglio. Parliamo di denari perché potrebbe essere un individuo che potrebbe portargli, provocargli dei problemi da un punto di vista economico. Cioè, ad esempio, nel caso in cui lui lasci la compagna ufficiale per iniziare un rapporto con voi, teme che qualcuno possa ostacolare il suo progetto con voi, portandogli via del denaro o comunque provocando un forte esborso di denaro, depauperandolo. Qualcuno chi? Una figura maschile, un'energia maschile, un re che può essere tanto generoso, quindi è in grado di dare, ma è in grado anche di togliere, con altrettanta ferocia. Quindi può diventare una persona amica, ma anche totalmente nemica. Quindi vi ripeto, è un uomo adulto, perché generalmente le figure dei re hanno un'età compresa tra i 40 e 45 anni in su, quindi potrebbe essere per esempio un padre. Oppure potrebbe essere appunto vostro fratello, piuttosto che un vostro cugino, vostro amico, qualcuno che però potrebbe non vedere di buon occhio il vostro rapporto e potrebbe appartenere o alla vostra famiglia o alla sua, vi ripeto, potrebbe essere appunto un genitore oppure un fratello, qualcuno che lo mal consiglia, oppure, vi ripeto, qualcuno che è inerente al suo rapporto ufficiale, per esempio un suocero, che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote e creare grosse problematiche da un punto di vista economico. Ma qui c'è un'energia maschile che lui teme, è un'energia di pentacoli, quindi ovviamente si abbina ai segni zodiacali di terra, quindi vergine, toro, capricorno, oppure una persona che potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, toro, vergine, capricorno, oppure potrebbe avere un tema natale ricco dei segni di terra, nei pianeti che ovviamente strutturano la personalità, che sono ovviamente la Luna, Venere, Marte e Mercurio. Mercurio che riguarda le nostre comunicazioni con l'esterno, la nostra curiosità, la nostra intelligenza. Marte che riguarda la nostra passione, le nostre energie, Venere che concerne ovviamente le relazioni sentimentali e la Luna che rappresenta la nostra emotività, la parte più profonda e preziosa di noi. Quindi potrebbe avere ovviamente molti pianeti in segni di terra, per esempio potrebbe essere un individuo con segno zodiacale capricorno, Luna in toro piuttosto che Mercurio in vergine. Quindi un individuo tendenzialmente molto attaccato all'aspetto materiale del vivere, quindi qualcuno che potrebbe intervenire da un punto di vista economico e quindi creare problemi da un punto di vista economico. Oppure vi ripeto potrebbe essere un vero e proprio rivale, quindi qualcuno che lui immagina che possa esserci al vostro fianco o che sa che c'è al vostro fianco nel caso in cui voi siate obiettivamente veramente impegnate e quindi non debba più di tanto immaginarsi. Ok? Quindi è una figura maschile che lui teme particolarmente. Solitamente il re di Pentacoli, come ulteriore caratteristica anche per aiutarvi ad identificarlo meglio, è una persona impegnata, quindi potrebbe essere appunto sposato piuttosto che è fidanzato però ufficialmente e potrebbe anche avere dei figli, non necessariamente ma potrebbe. Vediamo a questo punto il futuro, la prima carta che ovviamente si riferisce al futuro, la seconda è questa. Questa carta si riferisce al futuro immediato ovviamente o chiaramente a seconda poi di quello che verrà estrapolato poi da questa carta, che riguarda appunto tutto ciò sul quale non si potrà avere grande controllo, quindi fatti inaspettati, inattesi. Quindi futuro ha prescindere da qualsiasi vostro comportamento. Vediamo un po'. Qui abbiamo l'asso di bastoni. Allora, l'asso di bastoni è una carta ovviamente molto bella e anche molto importante. Questa persona si farà sentire, anche nella stesa precedente tra l'altro, era uscita se non sbaglio proprio la carta del giudizio che parlava circa di due o tre settimane massimo. L'asso di bastoni infatti ci parla di una comunicazione addirittura anche più veloce delle tempistiche rilevate dal giudizio perché la carta dell'asso di bastoni, come le prime tre carte dei bastoni, l'asso il 2 e il 3 di bastoni, rappresentano appunto i primi dieci giorni di un mese. Cioè per esempio se voi andate a guardare questo video il primo del mese di novembre, entro dieci giorni, entro quindi circa il 10 di novembre questa persona vi contatterà o comunque tra una decina di giorni o comunque nella prima decade del mese o dei prossimi mesi. D'accordo? Quindi entro pochissimo tempo questa persona vi scriverà. L'asso di bastoni ci parla sicuramente di una notizia che vi verrà portata e che ovviamente vi farà molto piacere. Una notizia che però ovviamente parte da un grande desiderio. Ragazzi parliamo di bastoni, è chiaro che l'asso di bastoni rappresenta un elemento fallico per eccellenza, quindi in questo caso l'asso di bastoni ci sta sicuramente a significare un impulso che in questa persona sicuramente prenderà ovviamente predominanza ma vi vede come il nome di coppe. Ci sta, d'accordo? Quindi è una persona che vi contatterà, lo farà in maniera molto diretta, quindi telefonata piuttosto che messaggio per però avere un incontro. Quindi non sarà semplicemente una chiacchierata. L'asso di bastoni ci parla di concretezza, di agire materiale, quindi concreto. Di conseguenza questa persona vorrà proprio incontrarvi, vedervi per parlarvi di qualcosa di molto importante perché le carte degli assi ci parlano di dichiarazioni molto importanti che hanno un certo peso anche per quanto riguarda una sorta di progettualità futura. Di conseguenza, come vi dicevo nella stesa precedente, cercate di prestare attenzione alle parole che userà questa persona o alle informazioni che vi verranno in qualche modo svelate, rivelate durante queste comunicazioni perché molto probabilmente entrerete in contatto con delle realtà completamente nuove o comunque sono usciute, a voi sconosciute e che in qualche modo vi renderanno particolarmente felici. Quindi molto probabilmente potrebbe parlarvi proprio del suo rapporto ufficiale che abbiamo visto nella stesa precedente non va assolutamente bene. Quindi questa persona tornerà da voi per potervi vedere, per potervi incontrare e quindi con una progettualità importante entro brevissimi giorni, quindi dieci giorni in massimo due o tre settimane. Questa persona, vi ripeto, lo farà sulla scorta di un grande impulso, quindi di un grande desiderio, ma anche perché questa persona ha bisogno di voi, questa persona non riesce a stare senza di voi. Voi siete un uovo di coppe ma siete anche un asso di bastoni, quindi rappresentate la gioia, la felicità, la vitalità, l'affermazione del suo essere diciamo virile. Quest'uomo con voi si sente fortemente virile, si sente anche fortunato, quindi innanzitutto sicuramente quest'uomo intraprenderà un'iniziativa importante nei vostri confronti perché in realtà ha bisogno di stare vicino a voi, perché al vostro fianco si sente completo, come se avesse guadagnato tanto, sia in termini di autostima ma anche come sviluppo personale per quanto riguarda emozioni, sentimenti, appagamento. Quest'uomo al vostro fianco si sente padrone, padrone della circostanza, padrone dei suoi desideri, si sente, vi ripeto, finalmente appagato. Quindi di conseguenza attendetevi sicuramente una notizia da parte di questa persona che porterà quindi ad una presa di posizione importante. Comunque prestate attenzione a quello che questa persona vi dirà. Allora vediamo il consiglio degli arcani. Allora qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora il 5 di bastoni è una carta molto importante perché ci rappresenta la forza, l'energia nel combattere. Il 5 di bastoni ci parla di possibilità, in qualche modo di un confronto piuttosto duro che potrebbe scaturirne. Ma dovete ovviamente cercare di far fronte a tutte le vostre energie per riuscire a cavarvela e a vincere. Perché il 5 di bastoni rappresenta proprio dei conflitti che poi, la carta successiva al 5 di bastoni e al 6 di bastoni è la carta della vittoria, quindi porteranno alla vittoria. Ma ovviamente è necessario per poter sbloccare una situazione che ormai stava diventando stagnante. Il 5 di bastoni è una carta successiva al 4 di bastoni che come tutte le carte di grado 4 rappresentano l'immobilismo, la fissità, la stagnazione di una situazione. Quindi questa persona sicuramente in questo momento tornando da voi lo farà, vi ripeto, perché vi vuole, perché vi desidera, perché è innamorata di voi questa persona, non c'è niente da fare. Però ragazzi è anche vero che obiettivamente nel momento in cui questa persona tornerà da voi lo farà sicuramente con l'intento di cercare di capire come poter portare avanti la situazione con voi. Quindi potrebbe in tutta questa foga comunicativa lasciarsi magari andare a delle considerazioni che potrebbero non farvi del tutto piacere, potrebbero un po' irritarvi. Di conseguenza vi viene consigliato di lottare per cercare di migliorare la vostra condizione, senza ovviamente agire in maniera disonesta, quindi senza cercare in qualche modo di, diciamo, togliere merito per esempio alla compagna ufficiale, ma cercando invece di sottolineare i meriti del vostro rapporto, o comunque semplicemente facendoglieli provare. Fategli capire che lui con voi si sente appagato, fateglielo provare. Quindi vi ripeto, potrebbero esserci dei momenti magari di confronto, confronto acceso da un punto di vista comunicativo. Rimanete sulle vostre posizioni, proprio perché in questo caso necessiterà forza, coraggio e virtù. Quindi evitate discussioni sterili, evitate la collera, evitate l'ira, evitate di mostrare conflittualità con questa persona, ma andate dritte per la vostra strada. Fate capire, proprio come nella stesa precedente a questa persona, che voi resistete agli attacchi della sorte, agli attacchi del destino, a questi momenti magari di stand by che ci possono essere tra voi e lui, ma che siete comunque pronte alla vittoria, perché la vittoria già la sentite tra le vostre mani. Fate capire a questa persona che voi vi rialzate dopo qualsiasi caduta, che siete una persona piena di progettualità, di realizzazione, che avete tanti impegni professionali, parliamo di bastoni, che avete una vostra vita al di là ovviamente di lui, anche se lui l'ha capito, perché ve l'ho detto all'inizio già con i nove di coppe. Ma vi ripeto, in queste conversazioni o durante i prossimi incontri potrebbe esserci quel qualcosa che potrebbe irritarvi. Cercate di mantenere la calma, perché la vittoria è già nelle vostre mani, altrimenti questa persona non proverebbe questi sentimenti per voi e ovviamente non tornerebbe a cercarvi. Questa è una persona, vi ripeto, che non vi vuole solo fisicamente, non è attrazione, qui ci sono anche sentimenti. Quindi mostrate a questa persona che voi siete forti e che voi siete combattive, che non avete paura di nulla, perché voi fondamentalmente non avete bisogno di nulla, che siete una persona in grado appunto di resistere e comunque di rialzarsi sempre. Quindi fate capire che non avete paura di arrivare ad un punto di svolta, cioè nel caso in cui questa persona vi parli della ipotetica rottura o del desiderio di chiudere con la compagna ufficiale, non mostratevi titubanti, ma mostratevi risolute in quello che ovviamente ragazze voi volete. Se il vostro desiderio è iniziare un rapporto ufficiale con questa persona, portate ovviamente avanti questo suo desiderio e fategli capire che voi comunque gli starete al fianco. Quindi date fiducia a quest'uomo, ovviamente però a seconda di quelle che sono le vostre aspettative, la vostra progettualità. Però vi ripeto, il 5 di bastone ci parla proprio di un incontro, anche verbale piuttosto importante, che porterà però ad un punto di svolta e quindi le cose finalmente inizieranno a girare per il verso giusto. Vediamo a questo punto questa carta che ci parla e rappresenta la sentenza definitiva, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona nel prossimo futuro. Allora qui abbiamo la carta del 10 di Coppe, che bello. Allora sicuramente tra voi e questa persona ci sarà una grande presa di posizione. 10 di Coppe è una carta di grado 10 che parla appunto del chiudere una situazione, quindi chiudere un ciclo per aprirne uno nuovo. Quindi vi ripeto, in questo caso quest'uomo vi dimostrerà tutto l'amore che prova per voi. 10 di Coppe, parliamo di Coppe. Quindi sentimento, voglia di stare insieme, voglia di incontrarvi, voglia di vedervi. Però è anche chiaro che qui parliamo del mettere in piedi veramente un rapporto. Quindi questa persona potrebbe proporvi o di vedervi più spesso, comunque creando un rapporto più stabile con voi, oppure addirittura di cambiare compagna. Quindi potrebbe parlarvi o in qualche modo farvi intuire circa la sua necessità e voglia di cambiare compagna. Nel momento in cui per voi ovviamente sia importante questa storia, come vi dicevo con la carta del 5 di bastoni, fate capire ovviamente a questa persona che voi ci siete e poi ovviamente la storia prenderà completamente piede. Nel momento in cui invece per voi ci possano essere, perché potrebbero esserci ragazze, dei momenti di insicurezza o dei punti che non vi sono ancora del tutto chiari, chiedete a questa persona del tempo, perché lui ovviamente si è preso del tempo, ora aspetta tranquillamente a voi. Quindi cercate di soddisfare quelli che sono obiettivamente i vostri desideri, le vostre aspettative, ciò in cui voi obiettivamente credete maggiormente. La carta del 10 di coppe ci parla di un incontro, ci parla di uno stare insieme, ci parla di un godere ciascuno della presenza e della vicinanza dell'altro, ma vi ripeto in virtù proprio di una ritrovata serenità, in virtù del rinnovare il vostro rapporto, ovviamente però dandogli un corso nuovo. Quindi qui abbiamo un 10 di coppe, quindi il vostro rapporto potrebbe obiettivamente prendere una piega molto importante o comunque molto diversa. Quindi vi ripeto, o potrebbe chiedervi in qualche modo e proporvi di poter appunto iniziare una storia con voi ufficiale, lasciando la compagna ufficiale, oppure potrebbe chiedervi del tempo per poter provare eventualmente a sentirsi di più, a vedersi di più. Quindi facendo diventare il vostro rapporto qualcosa di molto più stabile. Parliamo di una carta di grado 10, quindi pari, quindi stabilità, ma una stabilità all'ennesima potenza, è un 10 di coppe. Quindi in realtà questa è una persona che potrebbe fare sul serio, nel momento in cui torna ovviamente da voi. Quindi tutta la strada che avete percorso sino ad ora con questa persona, ragazzi, attenzione perché verrà completamente cambiata e ribaltata. Qui c'è qualcosa che necessiterà la chiusura con situazioni del passato per aprirsi a situazioni completamente nuove, che porterà ovviamente una rinascita. È chiaro che, ragazzi, dove finisce qualcosa nasce sempre qualcos'altro ed è chiaro che nel momento in cui finisce un qualcosa ci potranno essere sicuramente, vi ripeto, dei momenti di dubbio, di turbamento, anche di sofferenza, perché il 10 di coppe può rappresentare anche la chiusura, per esempio, di un rapporto che voi potreste avere in essere nel caso in cui appunto questo re di denari possa rappresentare un compagno che avete ufficiale. Quindi vi ripeto, potrebbe sicuramente richiedere fatica, anche fallimento, cioè fallimento di un rapporto che voi potreste avere in essere. Pensate per esempio al 10 di spade, ma ovviamente necessiterà forza e coraggio, quindi determinazione, un lavorare duro, un lavorare sodo alla realizzazione dei vostri desideri. Pensate al 10 di bastoni. Per riuscire ad avere tutto l'appagamento di cui voi avete bisogno, da un punto di vista, ovviamente in questo caso parliamo del 10 di coppe, da un punto di vista strettamente sentimentale. Avessimo avuto un 10 di denari, potevamo appunto immaginare una situazione economica di grande abbondanza, quindi un rapporto che ovviamente poteva stringersi, ma che avrebbe avuto un risvolto economico molto più importante dei sentimenti. In questo caso invece abbiamo un 10 di coppe, quindi tutto ciò che per quest'uomo veramente sarà fondamentale e importante è l'amore. E ve l'ho detto anche appunto nella stesa precedente, quindi quest'uomo darà molta più importanza ai suoi sentimenti. Finalmente riuscirà a capire che ciò che conta effettivamente nella vita e nella sua vita evidentemente sono proprio i sentimenti. Ed è una persona che non vuole più sprecare tempo, quindi obiettivamente è una persona che ha sicuramente bisogno di chiudere con il passato per potersi aprire completamente al nuovo. Quindi il vostro rapporto sicuramente, diciamo, attraverserà e ha già attraversato dei momenti duri, ma vi porterà di nuovo verso la luce. Parliamo di coppe, quindi tempistiche molto veloci, perché le coppe e i bastoni ci parlano di giorni massimo settimane, mentre abbiamo visto che i pentacoli piuttosto che le spade possono parlare anche di mesi, se non addirittura anni. Il 10 di coppe ci parla quindi di, ma ve l'ho detto all'inizio con l'asso di bastoni e nella stesa precedente con il giudizio, comunicazioni che vi arriveranno a breve, entro pochi giorni, entro poche settimane. Tra l'altro 10 di coppe, una decina di giorni, l'asso di bastoni grossomodo una decina di giorni. Quindi nei prossimi giorni aspettatevi una comunicazione da parte di questa persona. Comunque che questa persona si faccia viva, 10 di coppe, per potervi incontrare, per potervi vedere vis-à-vis. Fate ben attenzione a quello che questa persona potrebbe raccontarvi. Il 10 di coppe ci parla anche di un ambiente casalingo, quindi potreste incontrarvi per esempio a casa sua o lui a casa vostra. Quindi è un avvicinarsi al luogo di domicilio di uno dei due. Quindi rappresenta proprio il focolare domestico, dove potrete trascorrere del tempo in grande armonia, parliamo di coppe, ma in qualche modo ricordate il 5 di bastoni. Potrebbero, diciamo, susseguirsi delle discussioni o dei piccoli momenti di misunderstanding, quindi di incomprensione. l'intesa comunque prevarrà. Ma attenzione al desiderio di questa persona di voler cambiare vita. Quindi in qualche modo cercate di far capire bene qual è la vostra posizione in tal senso. Quindi cercate di mantenere ben chiari i vostri obiettivi, palesandoli chiaramente, 5 di bastoni. Evitate lo scontro, però evidentemente in questo caso vi posso assicurare che con questa persona ci sarà molto da dire, molto da fare e anche molto da discutere. Ovviamente discuterete di amore, di sentimenti. Quindi sicuramente il vostro rapporto andrà sicuramente a migliorare, a cambiare anche, perché appunto è una carta di grado 10, quindi ci parla di realizzazione, ci parla di accrescimento, ci parla di tutto ciò che si trasforma, ovviamente la chiusura di un ciclo sentimentale per aprirne completamente un altro. Di conseguenza sarete entrambi più consapevoli, non solo lui come vi dicevo nella stesa precedente, ma anche voi sarete sicuramente molto più consapevoli di quello che è veramente il vostro desiderio, il vostro sentimento per quest'uomo. Potreste per esempio scoprire che in realtà non avete ad oggi, in questo momento, intenzione in qualche modo di impegnarvi in una storia ufficiale con un uomo che appunto è stato sposato, è tuttora sposato e magari ha dei figli. Quindi potreste in qualche modo scoprire anche dei lati nuovi della vostra stessa personalità. Comunque 10 di coppe ragazze non vi deve assolutamente spaventare perché si parla di armonia, comunque di felicità, di un completamento ormai di una fase che è destinata a finire per riprendere secondo ovviamente un percorso completamente nuovo, quel cambiare pelle di cui parlavo nella stesa precedente per quanto appunto riguarda la carta del giudizio. Quindi qui si andrà veramente verso un importante cambiamento. Un cambiamento che sicuramente vi ripeto farà bene ad entrambi perché finalmente sarete entrambi completamente consapevoli di ciò che ovviamente vorrete entrambi dal vostro rapporto, anche se ovviamente in questo caso c'è sicuramente il lieto fine. Ma vi ripeto partirà tutto in particolar modo da lui perché è lui che prenderà finalmente l'iniziativa, l'ho detto nella variante precedente, nella stesa precedente con la carta del giudizio e il re di coppe e ve lo confermo in questa stesa con l'asso di bastoni, il 5 di bastoni e il 10 di coppe. Quindi sicuramente quest'uomo ha tutta l'intenzione di trasformare la sua vita per seguire finalmente per la prima volta in vita sua quelli che sono appunto i suoi sentimenti, in questo caso appunto nei vostri confronti. Quindi un vero e proprio cambiamento nella vostra storia ma anche nella storia con la compagna ufficiale. D'accordo? Di conseguenza voi sapete che io come al solito poi le stese le rifaccio ovviamente dopo un po', di conseguenza potremo poi nella prossima stesa osservare il proseguo della situazione. Voi lo sapete che io dopo un po' ripropongo grossomodo e gli stessi titoli, di conseguenza andremo poi a vedere come potrebbe evolvere la situazione. Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e mi raccomando tanta forza!